Di aperta questa mattina l'area di vita parcheggio di Via Lorina nei pressi del mercato Orto Frutticolo che sarà aperta al pubblico per tutto il periodo estivo. Come amministrazione torniamo ad invitare i nostri concittadini ad usare i mezzi pubblici, dichiara l'assessore alla mobilità Salvatore Piccione. Al fine di evitare il congestionamento del traffico veicolare lungo la via Malta e in Ortigia durante i weekend verranno predisposti i servizi straordinari di busnavetta dai parcheggi di via Fomplaten e di via Lorina a partire dalle 20 e fino all'1.30. I busnavetta che serviranno quest'ultimo parcheggio percorreranno la corsia preferenziale lungo il corso Umberto ed effettueranno un'unica fermata al ponte Umbertino. Inoltre da entrambi i parcheggi si potrà usufruire del servizio taxi in convenzione a 2 euro a persona con un minimo di 4 passeggeri tutti i giorni e senza limiti di orario, confermata sul ponte Umbertino.